Ciao a tutti tifosi e tifose, siamo Solzakree e oggi ci sfideremo a Indovina l'età del calciatore. Vista l'assenza delle partite faremo una sfida e chi indovinerà più volte l'età dei cinque giocatori vincerà la sfida. Speriamo di vendicarmi per l'ultima volta. Parto io. Dimmi l'età di Viraghi. Viraghi della Fiorentina è un po' che è in giro, ha giocato anche all'Inter dai 25 ai 28 anni di sicuro, 25 anni di più. Io dico 27. Quindi la tua scelta definitiva è? 27. No, no, 29 anni. Più vecchio del previsto. Tu come pensavo? Adesso vado a prendere i miei. Io ti dico Beto dell'Udilese. Quanti anni ha? Beto è il primo anno. Quindi non sarà particolarmente datato. Beh, primo anno in Italia ma non sa in realtà quanti anni ha fatto in giro. Vero. Secondo me ha un'età compresa tra 23 e 26 anni. Io punto su 24. È la tua risposta definitiva? Sì, accendo. Sbagliato. 23. No, vengaggia di 1. Si resta sullo 0 a 0. Questa sfida è particolarmente difficile. Altre 4. Cragno, portiere del Cagliari. Cragno. Io dico 24 anni Cragno. Sbagliato totalmente. 27. 27. È un 1994. Pensavo fossi un giovane Cragno io. Cioè, non che è vecchio ma. Certo. Da sotto è il bagno e anche te la secco. Quindi siamo ancora 0 a 0. Felipe Anderson. Quanti anni ha Felipe Anderson? Beh, secondo me si avvicina ai 30. Se non magari supera anche. Io direi che ha proprio 30 tondi tondi. No. Sannate. 28 anni. Ah, ma che c'era sempre più io. Echdale? Echdale è tanto che c'è. Ero a Cagliari. Adesso alla Sampdoria. Echdale è sui 30. Io dico 31, 30. 31, 30. 30 tondi. Sbagliato. No, non è 31. 32. Indovineremo mai una? Non lo so, non lo so. Buonaventura! Questo è 30 di supera di sicuro. Potrebbe avere neanche di 32. Dai, accendiamo 32. Hai giusto? L'accendi? Sì. Sei sicura, sicura? Sì. Ma sicura, sicura? Ti do la possibilità di cambiare perché se sbagli di uno. No, no, no. Ademirato, dai. Quanto? 32. E vai! Nooo. Ne mancano ancora due e posso recuperare. Ilic, del Verona. Da non confondere con Ilicic. Potrebbe avere dai 22 ai 24, non di più. Dico 23. Quanti? 20. Porco, panni. Vieni. Noi magari in questo vinco. Ti bisogna avere anche un po' di fortuna. Boga! Nuovo qui sull'Atalanta, non ancora ufficiale, ma quasi. Quanti anni ha il nostro Boga? Io credo di saperlo. Credo che abbia proprio la mia età. 1998, di conseguenza 23 anni. No, hai sbagliato? 24. No, l'anno in più. 24. Era convinta. Bene, l'ultima tua possibilità per andare ai golni. Bremer. 24. Va bene? Sì. Sì? 24? È giusto. Non ci credo che cura. È giusto. Ma c'è un paragio in extremis! Paragio in extremis! Sulla base di cose... Bremer! Non lo fava quando aveva tu bremer. Paragio in extremis! Al novantunesimo The Rock contro la Lazio! Che puoi vincere, eh? Ma cavola, ma cavola, ma cavola. Ma non lo indoviderei mai! Mario Rui! Io opterei per... Mi sembra molto giovane di faccia, però. Secondo me ha 27 anni. L'accendi? L'accendo. Sì! Pareggio! Ne ha 30, Mario Rui! Dai, mi ha ingannato! Mi ha 30! Mi ha ingannato! Non è tanto tempo che gira. 30, visto? Allora? 30! Ma è finito! Pareggio! Bisogna scegliere un altro giocatore a testa! Andiamo avanti! Cacci gli rigori! A oltranza! Cioè, se lei indovina, io sbaglio, vince lei. Se indovino a tutti e due si va avanti. O se indovino io e lei sbaglia, vinco io. Vediamo un po'. Pareggio in extremis! Ci parte con Messias. 30. Però, guarda, bisogna dire subito che lui prima aveva già visto i giocatori che aveva cercato, quindi ci aveva già pensato. Messias, è il boom del momento, mi chiedi Messias, che dicono tutti, è esploso a 30 anni, è arrivato in Serie A 30 anni, ha giocato in Champions League a 30 anni, è arrivato al Milan a 30 anni. Dai, dai. Se non indovino, ho già perso. Quanti anni ha Caglieon? Però, fai dei ragionamenti, ma ricerco di darti un aiutino. No, anche lui gira da diverso tempo. C'era già dai tempi di Ronaldo a Real Madrid. Sì, no, Ronaldo c'è nel senso. Ah, Ronaldo c'è nel senso. Non ne ha 30, ma non ne ha neanche 35, siamo una via di mezzo. Secondo me ne ha 33. È la tua risposta definitiva? No, perché si mette in te, devo dire che è sbagliato. Eh. Sono indecisa tra 33 e 34. 34, risposta definitiva. Ma sei detto 33 prima. C'hai ripensato. 34, che culo. Davvero? Molina. 24 anni a Molina. Lo dici così? Sì. No, ha sbagliato, ne ha 23. No, no, è così. Savic, ma non Milinkovic Savic, quello del Lazio, ma Milinkovic Savic del Torino, il portiere. Il portiere beve vecchio. Il barba. Boh, forse neanche si diverte. Secondo me ne ha 27. È la tua risposta definitiva? Yes. No, 24 anni. Cavolo, questa è proprio sbagliata. Vecchio, perché c'è la barba vecchia? Eh, boh. Cambiaso? 21 anni. È giovanissimo. Mmh, va bene. 21. Proprio 21. Yeah! Adesso tu sbagli e finisce qui. Non c'è storia. Miguel Veloso dell'Ella Sverona. Lo indovinerai mai. Quanti abbiamo? Miguel Veloso ha 31 anni. 35. Ci vince anche questa challenge. Dopo aver vinto, indovina il giocatore, vince anche questa. Ciao a tutti e al prossimo video. Giocate con noi! Pizza e al prossimo video. Ciao a tutti! Grazie a tutti.